Eccoci qui due ore dopo l'ultima parte che ho registrato, visto che ho dovuto allattare nel frattempo tanto per cambiare. Passiamo quindi adesso alle novità di questi due mesi, che sono state diverse. La prima novità di cui vi voglio parlare è Aime 1, Amore e segreti, di Kako Mitsuki, proposto da Flashbook a 5,90€, nella consueto edizione Flashbook. Quindi, Kako Mitsuki è autrice già giunta nel nostro paese con un batticuore sconosciuto e di due la luna, due volumi unici. E la Planet Manga pubblicherà questo mese, credo, cioè a luglio, insomma, Sora Log, se non sbaglio. Kako Mitsuki è un'attrice di shoujo molto tradizionale, da un tratto tutto sommato ancora abbastanza impersonale, però piacevole. La storia in realtà è abbastanza un po' trita, perché abbiamo la protagonista, che si troverà a vivere da sola perché i genitori partono per lavoro, non mi ricordo bene, e si d'amora a prima vista di un ragazzo più adulto di lei. Poi, per poi scoprire, poco tempo dopo, che questo ragazzo è in realtà suo zio che si occuperà di lei durante l'assenza dei genitori a lei, quindi amore proibito e variazioni sul tema, insomma. In uno stile, però, che devo dire, questa dice non mi dispiace, perché racconta delle storie tutto sommato molto banali ancora, perché non è che ci siano novità, eccelse, grandi innovazioni, di tramo, chissà che. Però le racconti in un modo delicato, che è nelle mie corde, insomma. Però, devo essere sincera, questo forse è il titolo che finora mi è meno piaciuto di quei litri che ho letto. Mi è sembrato forse il più banalotto. Però ha anche altri due numeri per svilupparsi, quindi bisogna poi vedere dove andrà a parare. Però lo consiglio o a chi ha apprezzato l'autrice per gli altri lavori, oppure magari si è cercato uno scioggio per ora, che sembra essere comunque abbastanza disimpegnato, una lettura tranquilla, ecco. Non è niente di imperdibile. A me piace, perché questa autrice mi piace, riconosco però che, a parte una certa delicatezza di fondo, non è che ha particolari meriti incredibili, però è un manga piacevole. Abbiamo poi una novità, secondo me, fighissima di questi due mesi, che è Attacker No. 1 di Chikakurano, per la J-Pop a 6 ore e 50 a volume. E Attacker No. 1 non è altro che il manga che ha dato origine a Mimi e la Nazionale di Pallavolo. Spero che si legga qui, è ok. In questo formatino, tanto carino, molto picciolino proprio, cioè se lo mettiamo in paragone, per esempio, da Mimi che vi ho fatto vedere prima, vedete la differenza, proprio. È microscropico. Però è molto carino. E la J-Pop ha detto che in originale era così, quindi hanno riproposto il formato originale. E comunque un bel mallopazzo di pagine, perché mi pare sono 320 o giù di lì a volume. Quindi 6,50 euro mi pare un ottimo prezzo, con un'ottima confezione, come al solito. Io credo che molti di voi, soprattutto chi ha la mia età, e anche più grande, insomma, si ricorderà, conoscerà a Mimi e la Nazionale di Pallavolo, insomma, cartone che ha girato varie reti, regionali, per lungo, per largo e per attraverso. E un manga che mi ha stupito. Devo essere sincera. È un manga sulla Pallavolo, essenzialmente. È un manga degli anni 60, quindi è un manga storico, assolutamente, che mantiene però una freschezza che sinceramente mi ha colpita. Abbiamo Kozue, che cambia scuola per vari motivi, e decide di iscriversi al club di Pallavolo. Dopo i primi scontri con altri avversari, eccetera, diventerà una leader della sua squadra. Ci avremo anche il rapporto con l'amica rivale Midori, prima rivale, poi amica, e le varie sfide che questa squadra di Pallavolo dovrà affrontare per arrivare comunque ai vertici nazionali. Il disegno ovviamente è assolutamente retro, però particolarmente pulito. Molto piacevole, insomma. Le tavole si leggono molto bene. E sinceramente è una storia di sacrifici, di dedizione alla Pallavolo, di amore per lo sport. Quindi porta tutta una serie di valori importanti anche, in un modo veramente piacevole. L'elemento, diciamo, più romantico, che forse ci aspetterebbe in un show, è abbastanza marginale, tutto sommato. Quello che ha in primo piano è l'amore per la Pallavolo, e i vari sacrifici che vengono fatti per arrivare a certi livelli, per superarsi, superare i propri limiti. Quindi io sinceramente lo consiglio, sia per il valore storico comunque che ha questo manga, voglio dire, sia perché è una lettura veramente piacevole, mi ha sorpreso. L'ho preso per curiosità, perché il cartone mi piaceva, e invece mi sono appassionata, e quindi non vedo l'ora di leggere anche i prossimi volumi. Abbiamo poi una novità molto attesa dai fan, che è Billy Beth 1, di Naoki Urasawa, a 7,50 euro da GP Kalbishing. In un'edizione ineccepibile di idee, se pensiamo a cosa ci propone la planet manga, a 7,50 euro, voglio dire. Quindi abbiamo questa fascetta, che copre la sovracopertina, molto carina. Abbiamo la sovracopertina stessa di buona carità, buona carta, ottima carta, e un sacco di pagine a coro all'inizio, stampate veramente bene. E questi sono i soldi di disegni di Urasawa, insomma, un'edizione veramente curata. Per una storia molto particolare, perché è ambientata nel secondo dopoguerra, in cui è una storia sempre molto intracciata, come in stile Urasawa, in cui un fumettista si rende conto di aver forse plagiato involontariamente, non si spiega come, un'opera già esistente. Da questo incipit in poi, il nostro fumettista si troverà implegato in una serie di casi di omicidio, segni misteriosi, arcani, distinzioni forse tra bene o male, decisioni da prendere, insomma, una storia tantissima carne al fuoco, nel primo numero, in una storia veramente affascinante, con molti riferimenti a un fumetto d'epoca, Tezuka anche, nuovamente in questo manga ci sono dei riferimenti, e una storia veramente interessante, e non vedo l'ora che escono i prossimi numeri, perché sono molto molto curiosa. Questo lo consiglio vivamente perché l'edizione poi è molto molto buona. Abbiamo poi Beast Master 1 di Kyosuke Motomi, la stessa specie di Freccia Danzante e Electroshock Daisy, a 5,90€ dalla Flashbook, un'edizione ottima come al solito, con la sovra copertina che è diversa, è più ruvida, le copertine Splash, di cui solito sono molto liscia al tatto, particolari, insomma. Questa invece è molto più ruvida, appunto. Non so se mi piace o meno come scelta, sicuramente mi è sembrato strano appena l'ho preso in mano il volume. Questa è una divertente commedia che si comporrà di soli due numeri, antecedente Electroshock Daisy, e in cui ci sono comunque già presenti tanti spunti divertentissimi, di questa tece veramente fuori di melone per tante cose. La cerbottana di precisione va bene, è stata qualcosa di fenomenale. In pratica abbiamo una ragazza protagonista che ama tanto gli animali, ma gli animali non amano lei per via delle sue esternazioni, un po' di effetto un po' troppo violente. e la ragazza poi, scusate, ma in nome io, con tanti manga comincia a incrociarli, e incontra un ragazzo che sembra avere un carattere bestiale, un temperamento bestiale, ma che nasconde poi sotto qualcos'altro. E quindi forse finalmente la nostra protagonista ha trovato un animale con cui può rapportarsi senza essere respinta malamente. Da questo presupposto molto insolito nasce una strana accoppiata e nasce una serie di situazioni molto divertenti che andranno poi anche a fare riferimento al passato misterioso del protagonista. Una storia molto divertente, molto carina, sarà il solito l'uomo. Il primo mi ha conquistato, devo dire. C'è chi ha detto che lo trovo di molto inferiore all'Eletroshock Daisy. Per esempio, a me non è sembrato e mi sono comunque divertita tanto. E quindi sinceramente aspetto il secondo volume per dare un giudizio definitivo, però per ora mi sento di consigliarlo. Passiamo poi a un altro manga che io trovo stupendo. Sono contentissima se è stato pubblicato. Sto parlando dei giorni della sposa di Kaoru Mori, edito dalla J-pop a 6 euro. Un'edizione ottima, come al solito, con questa particolarità della copertina che penso non renda in videocamera, però la copertina è abbastanza rigida e ha un effetto tipo perlato su tutta l'illustrazione. Illustrazione che continua negli svolti di copertina, insomma. Un'edizione pregevole come al solito. Kaoru Mori è la stessa attrice di Emma, Victorian Romance Emma, che se non l'avete letto vi consiglio candamente di leggere, che è stato pubblicato dalla Dynit. E è un'antrice che già in Emma aveva dato prova di avere un talento per la ricostruzione storica e per il disegno incredibile. E qui non si smettisce, visto che ambienta questa sua nuova opera nell'Asia centrale del XIX secolo. L'Asia centrale del XIX secolo. Cioè, a chi può venire in mente di fare un manga su una cosa del genere che richiede una ricostruzione storica, una documentazione, penso allucinante, perché non è che sia proprio argomento di conversazione quotidiana. E Kaoru Mori lo fa. E di cosa decide di parlarci? Decide di parlarci di un matrimonio, di una sposa che va appunto in moglie in un villaggio diverso dal suo villaggio di origine. La particolità è che la sposa Amira ha 20 anni e lo sposo Carluc ne ha 12. E quindi in questo volume avremo inizialmente degli episodi di vita più o meno quotidiana, anche se alla fine non mancherà comunque un accenno verso una trama più ampia comunque, soprattutto nell'ultimo episodio. Così come Emma, è un manga dove non contano tante parole, contano i gesti, i dettagli, le espressioni, conta tanto quello che non è detto ma che si può capire da come è costruita la vignetta. E ti trasporta in questo mondo che tu penseresti che... Cioè, uno penserebbe che non gliene può fregare meno della seicentale del XIX secolo, capiamoci. Invece, Kaoru Mori riesce comunque a trasportarti, a farti appassionare nonostante dica poco e ti prende, non lo so. È un'autrice che io ho amato moltissimo. In Emma è che... Confermo il mio amore per lei con questa opera. I disegni sono ulteriormente migliorati. Cioè, già si, non sono i dettagli del vestito. Ma non è che dice ha fatto la copertina bella con tutti questi dettagli. Questi dettagli li mantiene per tutto il sacrosanto volume. Cioè, continuano ad esserci dettagli assurdi del vestito, delle cose. Cioè, basta vedere la prima vignetta qui. È una cosa meravigliosa. Io non so, non so che altro dire. È veramente meravigliosa. E poi la ragione si sposterà anche su un po' su altri membri della famiglia, comunque. È un manga sicuramente particolarissimo, ma che io consiglio, se volete provare un qualcosa di diverso, di più rilassato, anche perché ha solo tre numeri all'attivo e ne esce uno all'anno anche in Giappone. Quindi, comunque, sarà una lettura molto lenta e dilazionata. Però, secondo me, è un'opera veramente incantevole, almeno dal primo numero. Ecco, incantevole, penso sia la parola giusta. E quindi, io lo consiglio di tanto. Certo, se ho cercato una storia d'azione, d'avventura, questo titolo non fa per voi. È un titolo molto più rilassato, però sicuramente molto interessante. Abbiamo poi l'ultima novità di questo mese che è The Climber 1 di Shinichi Sakamoto, pubblicato a 5,90€, se non sbaglio, sì, da J-Pop. Questo è un manga sul climbing, cioè sullo scalare pareti rocciose o simili, ecco. Abbiamo il nostro protagonista, Buntaro, che è un ragazzo introverso, talmente introverso che se avessi potuto l'avrei preso a calci per tutta la durata del volume, ma comunque. Durante il suo primo giorno di scuola viene sfidato da un compagno molto arrogante, diciamo così, a scalare la scuola. Lui ci riesce con un innato senso, non lo so, una sorta di talento naturale, di intuizione. In quel momento si sente vivo come non mai e quindi scopre il climbing. Però ci viene subito posta una contraposizione del fatto che il climbing è comunque uno sport che si fa in squadra, comunque almeno in due persone, e invece Buntaro vuole la solitudine, si vuole mettere alla prova da solo. E questo darà via a varie vicende, insomma. Un primo numero introduttivo dei personaggi e del protagonista veramente insopportabile sotto alcuni punti di vista. Io l'ho trovato un po' tamarro, passatemi il termine, nel senso che abbiamo queste intuizioni fenomenali per il climbing. Bella vista di muscoli per sottolineare lo sforzo. Insomma, nel modo proprio in cui si pone il manga, l'ho trovato un po' tamarro, devo essere sincera. Però molto piacevole. Però ho letto in giro che comunque in realtà questo manga si svilupperà molto sul rapporto personale con la montagna. Diventerà più profondo, ecco, rispetto a questo primo numero che magari era molto più action. E io ho preso questo manga perché io sono una povera orfana di Gaku, interrotto dalla Planeta di Agostini. E questo manga non ha niente a che spartire con Gaku. Proprio parte da presupposti completamente diversi. C'è solo il fatto che ci sono le montagne è la caratteristica comune, ecco, diciamola così. Ma mentre in Gaku abbiamo il protagonista che usa la sua esperienza al servizio degli altri, diciamo, qui abbiamo un protagonista solitario, introverso, con un sacco di problemi, come si dice a Roma, come si capisce già già da quando lo vedi, ma già poi dalla fine del volume il tuo isci che c'era il passato triste e tormentato. E invece qui abbiamo, insomma, un rapporto solitario con la montagna, un modo per vedere dentro se stessi, probabilmente. Quindi ci sono proprio presupposti diversi. E quindi sono curiosa di vedere dove andrà a parare. Ecco, questo primo numero l'ho trovato interessante. Ecco, nel giudizio è questo, però voglio vedere come si evolverà.